Amici di Battista 70 Phone, ci siamo riusciti a procurare questo bellissimo Oppo Find X7 Ultra, un terminale che veramente suscitava il nostro interesse dal punto di vista sia fotografico che anche funzionale e di prestazioni. Abbiamo deciso di provarlo appunto perché purtroppo in Italia non è prevista la sua commercializzazione, però ci sembrava un gran peccato non avere l'opportunità di provare questo tipo di dispositivo che a livello internazionale è stato veramente apprezzato. Adesso ve lo faremo vedere nel nostro primo unboxing. Ecco qua la confezione del Find X7 Ultra, ce lo siamo procurati ovviamente dalla Cina, un bel cartonato nero di dimensioni importanti e bello pesante che ci fa già presagire che all'interno non c'è solo un cavettino del cavolo, ma c'è ben altro. Allora, cosa c'è in questa prima confessioncina nera? Voila, manuali sicuramente perché sento carta, manuali belli comprensibili in cinese, lo strumento per l'estrazione della sim, questa è comoda, una bella cover, bella in silicone ruvido, bello al tatto, originale Oppo ovviamente, bella, sembra ben fatta, ben sagomata. Cosa ci sarà qua dentro? Cosa ci sarà qua dentro? Voila, ecco qua il nostro bel Oppo Find X7 Ultra. Porca miseria, è veramente anche più bello a vederlo dal vivo che in fotografia. Abbiamo preso la versione blu, adesso avrà un nome particolare che poi vi diremo nella recensione però, diciamo, volgarmente chiamiamola blu, come il Find X6 Pro ha una doppia finitura, la parte inferiore, bella, è in similpelle, ecopelle chiamiamola, se no poi ci dicono qualcosa di brutto, invece la parte superiore è in metallo ovviamente ma con una finitura bianco smaltato, bello, veramente bello, dà un bel impatto visivo ed è anche bello da toccare. Il comparto cam mastodontico, giustamente con i quattro sensori da 50 megapixel, vedete anche qua bella la finitura zigrinata, sporge, sporge un attimino ma è giusto che sia così, è enfatizzato questo discorso fotografico che è il core dello smartphone. Lateralmente anche qua in metallo, molto bello, silver, con lo slider, bello, ci piace lo slider, ci piace lo slider perché lo slider è comodo ed è, l'abbiamo già apprezzato nei dispositivi Oneplus. Bel display che non accendiamo di proposito perché ve lo faremo vedere nella recensione, è un 6,82 pollici di diagonale, leggermente curvo, forse un po' troppo, però va bene così, che dire, un bel dispositivo, mettiamolo un attimo da parte e andiamo a vedere il resto della confezione, il resto della confezione, vediamo cosa c'è dentro, ecco qua, che bello, mi piace quando apro i dispositivi e vedo che c'è il caricabatterie, un bel caricabatterie da 100 watt perché ti danno la possibilità delle ricariche rapide però poi non ti danno il caricabatterie in dotazione, bravo Oppo che ce l'hai messo dentro, ovviamente la presa non è quella europea perché il prodotto è import, però è un bel SuperVoc da 100 watt, compatto, bello anche da tenere in mano e poi ovviamente abbiamo il cavetto dati, il cavetto dati, vedete, vabbè, già lo dovevo intuire, avrei dovuto intuire già dal caricabatterie, ma ha un cavo A2C, però va bene lo stesso, meglio, possiamo sfruttare anche eventuali altri caricabatterie, tra virgolette, vecchi che abbiamo in casa. Ecco qua, vi faccio rivedere un attimino il terminale, ma poi lo studieremo bene con calma nei prossimi giorni e per il momento vi saluto, un bel saluto quindi da Loris Adelucio per Battista 70 Fonda.